Hello guys e benvenuti finalmente sulla mia ufficiale serie di Minecraft della seconda stagione di vita su Minecraft come avevo già detto nel video aggiornamento se l'avete sentito ma mi sa di no lo dico adesso la jogbox mi dispiace per gli amanti ma l'ho abbandonata per qualcosa di molto migliore perché francamente siamo sinceri rifare la jogbox non so a quanti sarebbe interessato quindi oggi siamo su feed the beast mod pack la mod del magic world quindi senza indugio noi entriamo in questo magico mondo il nome ovviamente sarà sempre shen story la storia di shen allora facciamo la bonus test perché è bello al cheat le strutture i cheat perché sono sempre utili in certi momenti ovviamente hardcore no scherzavo creative ovviamente no scherzavo ok survival survival vogliamo un survival un survival un survival di quelli con i controcazzi buongio what the fu cioè che spawn di merda è stato questo mu 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 lo dirai a tua madre ma ma venite per il culo faccio mu a tua madre e tutti insieme mu cos'è sta roba ok bisogna allora cos'è sta roba off off ok e qua c'è il menu non posso toglierlo ok allora vediamo un po' off rain off no così sono in creative creative off si però mi rimane così vabbè me lo terrò così per ora il menu ok cassa grazie mille ok iniziamo tutto con la nostra ovviamente bellissima crafting table perché il crafting table è la parte essenziale di tutto ah ho cambiato anche mouse quindi se vedete la rotella partire a puttane ho detto papale papale state tranquilli è abbastanza normale per ora almeno ok facciamoci la nostra bella spadonzola e il nostro picconzolo vediamo che questo mouse mi sa che si sentirà di più il plicplac del mouse mi sa di si ok uccidiamo le vacche che mi sfottevano prima vediamo se adesso mi sfottete ancora mi sfottete ancora che adesso ho una spada in mano no? eh tu mi sfotti tu mi sfotti si a quanto pare si mi sfotte ancora e lo che figata siamo nel 3 team e non l'ho dimenticata della 1.4.6 mi piace sapevo che c'era una cosa simile ma mi sa che me l'ho dimenticato o forse l'ho sentito dire vabbè allora vediamo un po' cosa fare un blocco molto misterioso posso prenderlo? allora un po' è basso fuck ok allora vacche vacche per tutti i gusti vacche di tutti i giorni fa cagare ok mhm 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 ma l'ultimo verso è proprio il più mhm ma troppo ridere non ci credo mi si è rotta la spada porco puttana ti prendo a pugni tanto che pensi che ti lascia in pace che ti lascia in pace io ti prendo a badilati in testa se avessi un badile allora questa è una famosissima montagna del ghiaccio spesso si chiama veramente così? può essere nulla da dare per scontato la montagna che figata se non c'è una grotta andate a fare in culo da subito mi state sul cazzo da subito voi sappiatelo bruciate brutte merde brucia brucia aia zombie di sta cippa di minchia morite muori e muori quanto ci vuole un'ora per morire a te grazie è un cervello di zombie e carne di zombie io ancora anche dalla yog boss non ho mai capito che cazzo usavano i cervelli quelle robe di mi pare per la trauma 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 craft trauma craft boh non so come si chiama allora vodempicaxe il mio vodempicaxe è ora di lavorare dobbiamo raccogliere un po' di rocciola un po' di rocciola ti immagini creando una mod con la gravità realistica tu rompi un pezzo di grotta e ti cade in testa pof morto e tu non sai neanche di avere quella mod installata questo si che sarebbe veramente una morte di merda allora non credo che si penda con questo piccone boh quello muore e io me ne fotto altamente devo anche trovare un posto per costruire una casa beh qua c'ho la montagna di ghiaccio che potrebbe essere un'ottima ispirazione almeno secondo me avere una montagna di ghiaccio che non sai cosa c'è dentro accanto con la giungla più in là una prateria grande come non so cosa direi che è un buon posto lì c'è un coso che non ha senso pezzi di terra volanti e direi che questo è alquanto preoccupante qua c'è un coso dove di notte spannerà l'esercito romano o greco barbarico e ciò non è per niente positivo neanche un po' quindi qua abbiamo altre vacche ma francamente a me non me ne fotte una cippa e direi qua abbiamo un precipizio se ci finiamo dentro facciamo proprio senza neanche avere il tempo di dire merda proprio così morto un'altra vacca va a cagare sto appunto io mi faccio la casa nella prateria nella prateria qui queste parti qua si ma essere così scoperti vedo gli zombie non me gusta no 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 non me gustibus degustibus punto degustibus allora 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 ragioniamo un secondo montagna al ghiaccio giungla pianura precipizio pene volante di terra craft in teboli in mano decidiamo dove costruire la nostra casupola oh ma voi vacche siete da per tutto però eh cioè quando mi servite per farmi l'armatura scommetto che non ci sarete oh un altro di quei cosi scommetto che non ci sarete più pezzi di merda ok lì c'è un un minerale strano ma finchè non trovo un posto dove costruire la casetta tutta sta roba è inutile dice la giungla welcome to the jungle tananani la canzone non la ricordo quindi fermo qui nella giungla benvenuti nella giungla che figura di merda caduto per terra mouse mouse sei bello potente sei forte ma la tua cazzo di rotellina fa veramente cacare sono nella giungla sono sempre qui che cazzo è qualcosa sembra un altro pene non una montagna questa è una montagna c'è un pollo 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 c'era un pollo un ex pollo pollo amadori quanti cavolo di polli ci sono sono tanti sono troppi sono amadori i migliori polli per la tua generale no non c'entra un cavolo allora la sopra forse ho trovato un buon posto ombre di minecraft perché non vi caricate mai quando c'è il bisogno vi caricate sempre in ritardo i famosi polli negri chi non li ha mai incontrati i famosissimi polli negri ok oh mi ho fottuto oddio sto per fare un volo della madonna ovviamente io voglio costruire una casa cosa trovo lava lava la maldetta lava che come sempre io cercherò di fare una grotta sotterranea scherrò in alto per risalire mi troverò la lava nell'intero condotto che finisce poi dentro casa e ciao tu salto della fede no non si può fare io francamente proprio ancora non so dove che vuole costruire la casa ok mi sono deciso qualla collina lì sarà la dimora della nostra casa quindi c'è che mi dire no porca puttana mi sono salvato proprio buco di culo quindi cerchiamo di fare passettino 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 aia passettino 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 stai ritando notte passettino 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 passone 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 gigante no vola vola personaggio vola vola prima che diventi notte prima che diventi notte non farò mai tempo la casa già lo so già lo so devo arrivare almeno là sopra Almeno mi faccio un buco per terra Almeno quello Almeno mi salvo Pilaf dove sei porco Pilaf Maghero aiutami Pilaf Qualcuno aiuto Allora Sono arrivato Sono arrivato Sono arrivato We are the world We are the champion Sono arrivato Perché c'è luce lì c'è un alvelo Non pensate a quello che state pensando Non l'ho fatto di proposito Ok E' molto semplice Il da farsi Anzi Non è neanche tanto semplice Porca puttana Allora Stichettini 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 Schettini Schettini Schettino Stichettino Ho detto non schettini Cosa c'è schettino Sempre schettino Sempre lui Sempre colpa sua Ma perché sbaglio cliccare Maledetto mouse Allora Ho una luce Mi serve una porta Porta a porta Perché con una porta Io chiudo l'entrata Poi con la mia bellissima Palla Non palla Ma palla Mi faccio un piccolissimo rifugio sotterraneo Perfetto Il mio rifugio sotterraneo Anti-atomico E' stato completato Cosa servirà questo posto? Beh Ah un cazzo A parte Portecimi per questa notte In fausta Cattiva Insomma Avete capito Perché non si fa Ah è giusto Non si fa così la fornaccia Figura di merda Allora Ho abbastanza roccia? Direi di sì Tranne che per farmi un piccone di roccia E' il che Non è positivo Non ho nemmeno carbone E fuori qua com'è la situazione? Abbastanza calma A parte perché sto zombie Molto incazzato Molto incazzoso Molto incazzoso Che mi sta arrivando addosso Grazie Ci vediamo Ok ragazzi Diciamo che per il momento Aspetta che faccio un segno Di dov'è il mio Nascondiglio Tanto i zombie non ci arriveranno mai Sfondano le porte Adesso i zombie me lo sono dimenticato Merda 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 Ok ragazzi Direi che il primo episodio finisce qui Attenzione ragazzi Qui finisce il primo episodio Quindi ci vediamo al prossimo Dove probabilmente Usciremo fuori Prenderemo legna Prenderemo roccia Inizieremo a costruire a casetta Dove abiteremo per molto molto tempo E c'è un fottuto ragno C'è un fottuto ragno C'è un fottuto ragno qua fuori Fottuto ragno di merda Io me ne rimango qua dentro Non so ragno dove sei Ma io me ne fotto Ma i rumori che fa Non mi sembra molto ragno Vado fuori a sfidare No essere ragno Faceva rumori strani Ma essere un normalissimo ragno Grazie ragno Ci vediamo Quindi ragazzi Io qua concludo l'episodio Ci vediamo alla prossima puntata Di Minecraft Nel Magic World Alla prossima Ciao 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 Ciao